L'evento di oggi testimonia l'impegno della Regione Campania a duraturo nel tempo su temi di questo genere. Assolutamente la Regione Campania si è già distinta negli anni a partire dalla legge 34 che è stata la prima a favore delle donne vittime di violenza, degli orfani di femminicidio e dei figli delle donne vittime di violenza proprio per ridare un'autonomia alle donne per aiutarle a denunciare. La Regione Campania è partita con un ordine del giorno per dare mandato alla Giunta a livello nazionale di fare tutte le iniziative per porre rimedio a questa ingiustizia che devono ancora una volta subire le donne altrimenti tutte le azioni di prevenzione che facciamo anche all'interno delle scuole per dare un messaggio alle nuove generazioni non contano a niente e ci aspettiamo da questo governo che è capitanato da una donna che si attivi al più presto anche con le referenti istituzionali all'interno del Parlamento europeo affinché l'Italia sia un paese che non torni indietro e non faccia passi indietro rispetto ad una normativa che invece aveva fatto dei passi in avanti. Non ci accontentiamo ovviamente di un testo che fa un passo indietro rispetto a quello che poteva essere la direttiva europea, quella del 2022 e rivendichiamo ovviamente una posizione politica forte in questo momento dove l'escalation dei fatti di criminalità non ultimo in ordine di tempo lo stupro di Catania che dimostrano chiaramente quanto sia strutturale ovviamente il reato di violenza sulle donne. Secondo me il governo italiano dovrebbe prendere una posizione forte rispetto alla direttiva europea che vuole eliminare il reato di stupro da tutta la normativa sulla violenza.